amici e amiche di spazioitech un saluto e un bentornati da marco sul nostro canale youtube oggi non è una giornata come tutte le altre oggi finalmente è natale è il 25 di dicembre e abbiamo pensato di portare un video anche oggi un video particolare un video di auguri auguri perché questa è una giornata speciale ci permette di stare tutti insieme con le nostre famiglie e voi siete diventati un po la mia la nostra famiglia il nostro pubblico i nostri fan i nostri follower i nostri amici soprattutto persone con le quali condividiamo la nostra passione la nostra voglia di fare persone che ci spingono a migliorare a scrivere ogni giorno sul blog a portare contenuti sul nostro canale youtube a creare foto post sondaggi sui social insomma per tutto quello che ci spingete e ci permettete di fare la mia voglia era quella di dirvi grazie arrivati a fine anno e tempo di analisi questi sono stati i miei primi mesi il mio primo anno in spazioitech e devo dire che sono stati mesi minuti momenti secondi veramente indimenticabili dal primo all'ultimo spero che questo video di auguri di un buon natale che vogliamo farvi e che voi stessi farete a noi quindi è un video un po particolare non perdetevelo dopo la sigla sia da slancio per un 2020 unico vogliamo veramente portare ancora più contenuti vogliamo veramente entrare ancora più in contatto con voi per crescere sempre di più insieme dopo la sigla tanti auguri da tutti noi e da tutti voi alla community alla famiglia di spazioitech un augurio di buon natale buon anno a tutti gli amici di spazioitech da cosimo cosmo 76 eccoci qui amici di spazioitech sono fulvio e sono qui per darvi i miei più sinceri auguri per questo natale passatelo in famiglia sempre con un pizzico di attenzione alla tecnologia e mi raccomando che quest'anno sia migliore degli altri e ci aspettiamo tantissime novità per il nostro canale e tantissimi prodotti che non vediamo l'ora di provare e recensire per voi un saluto da fulvio auguri per tutto ciao ragazzi sono fadio conosciuto come nickname ac74 vi auguro buon natale e di passarlo il più meglio possibile e buona festa a tutti ciao auguri di buon natale auguri ciao ragazzi mi trovo qui a fare questo rapido video per augurarvi le migliori feste che possiate avere con i vostri familiari con i vostri cari vi auguro un buon natale un buon anno nuovo e spero che amazon abbia consegnato tutti i vostri pacchi di natale in orario con questo è tutto vi saluto ciao da vaniele per spazioitech volevo fare gli auguri di buon natale a tutta la community di spazioitech un saluto ciao a tutti sono luca vi auguro buon natale buon anno a tutti e soprattutto la community di spazioitech ciao moltissimi auguri a tutti il gruppo di spazioitech ciao a tutti